Ida Platano e Alessandro Vicinanza Ida Platano non ha detto di essersi lasciata con Alessandro Vicinanza o viceversa. Ma insomma, vi raccontiamo questa storia perché abbiamo dei dubbi. Prima di tutto, ovviamente, il fatto che di loro non c'è traccia da almeno un mese e mezzo. In altre parole, praticamente dal momento in cui hanno festeggiato il compleanno di lui a casa sua, non c'è traccia della coppia. La notizia, come sempre, è stata riportata da Dejanira Marzano. Va ricordato, come se fosse necessario, che c'è sempre stato chi ha creduto in questa coppia e chi non ci ha creduto. Insomma, chi pensava che fossero una coppia finta. La storia di Alessandro Vicinanza e Ida Platano secondo Dejanira Marzano. Uomini e donne la rivelazione di Alessandro Vicinanza e Ida Platano. In effetti, come potete vedere, l'esperta di gossip e web influencer Dejanira Marzano ha commentato la vicenda. Chiaramente. Ma perché stavano davvero insieme? Insomma, è una di quelle che non ha creduto a questa storia d'amore. Un mese fa, infatti, Alessandro Vicinanza aveva rilasciato la seguente dichiarazione. Le corse lunghe e dure sono antidepressivo naturale, perché è difficile correre e dispiacersi allo stesso tempo. In ogni caso, vi faremo sapere non appena avremo notizie più precise. Grazie.